In questo video vi mostriamo come rubare dei dolcetti ai nostri genitori. Una passeggiata al parco con i genitori può essere molto noiosa. Lucy sa cosa la renderà più divertente. Papà, il mio zaino è così pesante, forse sarebbe meglio se lo prendi tu. Certo, tesoro. Grazie papà, evviva, ora posso mangiare i miei dolci senza problemi. Ah, finalmente. Oh, che sapore incredibile. Lucy, tieni il passo, sto arrivando. Ma prima mangio un'altra caramella. È così deliziosa. Che trucchetto intelligente, Lucy ha un umore migliore. Le sue caramelle sono al sicuro. Come rendere più piacevole un lungo viaggio in auto? Basta portare con sé molti dolcetti. E fai attenzione, papà non dovrebbe notarli. Papà, non sta guardando? È ora di prendere i miei dolcetti. Oh, dolcetti. Lucy, ne voglio anch'io. Ehi, giù le mani dei miei tesori. Sei una ragazza cattiva. Ti prego, dammene un po'. Va bene piccolo bisognoso. Cosa c'è di meglio del cioccolato? Ne vuoi una? Sì. Delizioso. Oh, il mio cuscino è bucato ora. Fratello, dammi il tuo cuscino. No, 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 no. Non è giusto. Eccoci qui. Lucy, cos'è successo al tuo cuscino per il collo? Eh, beh, si è bucato. Ma ne è valsa la pena. Immagino che non ci sia nessuno qui. È ora di fare uno spuntino. Oh, ciao mamma. Devi lavorare? Va bene. Hai molto lavoro? Oh, che peccato. Che cosa stai facendo? Niente di speciale. Ho un'idea. La mia tastiera di cioccolato passerà facilmente per una vera tastiera. Mamma, dovresti prendere quel libro. Adoro il cioccolato. Ups, devo recuperare tutto velocemente. È davvero cioccolato? È strano. Forse ho bisogno di occhiali nuovi. Bene ragazzi, il paintball è un gioco serio. Non dimenticate di mettere le maschere protettive. E solo dopo inizieremo il gioco. È chiaro a tutti? Allora è il momento di caricare le armi. Per rendere il gioco in famiglia ancora più divertente bisogna addolcirlo un po'. E sembra che James e Lucy abbiano un piano. Caricate la pistola da paintball con le caramelle. Fatto. Ora non resta che sostituirla. E naturalmente papà non deve notarlo. eccellente. Tutto ha funzionato alla perfezione. Pronti? 3, 2, 1, via! La via è libera. Dove siete ragazzi? James, lo vedo! Fuoco! Va bene. Peggio per voi, ragazzini. Prendi i dolci, Lucy. Questa è quella che chiamo vittoria. Delizioso! I ragazzi inventerebbero qualsiasi cosa per mangiare i loro dolci preferiti. Papà, ti piace questo libro? È così grande, deve essere molto interessante. Cosa? Lucy, cos'era quello? Niente dolci. Vai in camera tua. Cattivella. Aspetta un attimo. Posso prendere le caramelle tra un'ora? Questa non è una caramella. Wow. Sembra più una cospirazione. L'orologio Cocu e i ragazzi sono della stessa parte. Oh, ha un profumo delizioso. Adoro le caramelle. Wow. Dolciumi. Unisciti a me, fratello. Evviva, con piacere. Ehi, fermati. I dolci fanno male. Dammeli. Ma, papà! E adesso, ricordati, ti tengo d'occhio. Perché questo mondo è così crudele. Non arrabbiarti, James. Guarda cos'ho. Non voglio giocare. Non rifiutare così in fretta. Questo cubo di Rubik ha una sorpresa. Sembra che Lucy non si arrenderà così facilmente. Hmm, fammi provare. Oh, queste sono caramelle di gelatina. Sono così gustose. Che state facendo? State giocando? Fantastico. Oh, sì, è vero. Papà ci è cascato. Lucy è geniale. Oh, che delizia. Sembra che i ragazzi stiano festeggiando un po' troppo. Beccati. Volevate davvero ingannarmi? Vergognatevi. Che ingiustizia. È colpa tua? No, è colpa tua. Siamo così belle. È vero, mamma. E io non sono solo bella, ma anche intelligente. Spero che mia madre non scopra che questi non sono profumi. Hmm, ha un odore familiare. Proprio come la Fanta. Oh no, mia madre sembra sospettare qualcosa. Presto. Devo nascondere le prove. Figlia, prestami il suo profumo. È meglio di no. Non essere tirchia, Lucy. Va bene. Non ho scelta. Ah, lo sapevo. Questo non è un profumo. È Fanta. La signora Foster non si lascia ingannare. Sembra che Lucy abbia ereditato il cervello da sua madre. I miei nuovi attrezzi devono essere da qualche parte. Oh, ecco il mio trenino. Gli uomini restano per sempre bambini. Guardate quanto è felice Frank per il suo giocattolo. Funziona ancora benissimo. Devo mostrarlo a mio figlio. Oh, un treno. Wow, funziona. Fico. Oh no, sta arrivando papà. Devo salvare le mie caramelle. Ho un'idea. Fatto. Ciao papà. Ti ha cercato per tutta la casa. Beh, sembra che James non sia interessato solo a giocare, ma i suoi dolci preferiti rendono tutto molto più eccitante. Nascondere la sua bibita preferita a sua madre è un dovere per Lucy. Ecco perché le sue idee diventano ogni giorno più astute. Figlia, hai visto il mio smartphone? L'ho lasciato qui da qualche parte. Eccolo qui. Oh, che bella rosa. Lucy, dove l'hai presa? L'ho comprata. Devo farti una foto con questa. Fatta. Sei così carina, bambina mia. Somigli tanto a tua madre. Perfetto. Darò qualche sorsata. Ah, Lucy, sei una modella nata. Sono così orgogliosa di te. Sei destinata ad una vita grandiosa. È un bene che la mamma non si sia accorta di niente. Il futuro è ancora troppo lontano, ma per ora sono destinata alle caramelle. Questo è proprio quello di cui ho bisogno. Bene, siamo pronti, James. Giochiamo? Non mi va. È noioso. Va bene, glielo farò scoprire. Lo so. Psst, James. Guarda. Ah, cosa? Oh, ho capito. Sarò felice di giocare con te, sorella. Ma papà non deve saperne niente. Adoro questi giochi. Gnam gnam. Ben fatto, ragazzi. Allenate il vostro cervello. Beh, con un tal addestramento, i figli di Frank diventeranno dei veri genitori. Perché avete smesso così in fretta? Ah, sembra che al signor Walker non dispiace mangiare qualche gustoso bocconcino. Lucy, ricorda che ascoltare i classici fa molto bene alla salute. Soprattutto all'aria aperta. Ecco, prendi la mia cuffia. No, no. Ho la mia playlist. Oh, questi giovani. La musica è buona, ma i miei dolcetti sono molto meglio. Sì, è perfetto. Lucy, cosa stai facendo? C'è qualcosa che non va con le cuffie. Bene, ora va bene. La 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 la. E tu come li nascondi, dolci ai genitori? Condividi le tue storie divertenti nei commenti qui sotto. Ti è piaciuto il video? Se ti è piaciuto, iscriviti al nostro canale e fai clic sul campanello. A presto! A presto!